Borgo Mezzanone è sempre più terra di nessuno, la borgata dista appena 10 km da Foggia ma è territorio di Manfredonia situata a 50 km e i residenti di Mezzanone si sentono trascurati. Siamo dimenticati da tutti, dall'istituzione, dal comune di Manfredonia, l'immondizia è un mese che non vengono a ritirare l'immondizia, a scopare, a pulire il giardino, tutte queste cose qua. Poi del resto non abbiamo una circosizione, per un certificato dobbiamo fare 50 km per arrivare a Manfredonia, prima avevamo un impiegato che veniva almeno una volta o due volte alla settimana, adesso non abbiamo più nessuno. Avevamo un farmacista, ce l'hanno pure tolto, non so come il motivo, perché la palazzina del comune sta in degrado, i vandali che l'hanno tutto, quello è il problema qua. Del resto poi noi diamo la colpa agli extracomunitari, quello e quell'altro, però il prefetto a noi si interessa. L'autobus che è pieno da un giorno, ogni corso è sempre pieno, 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 poi a noi ci obbligo di mettere le mascherine, quello e quell'altro, là dentro fanno quello che vogliono.